Onorevole, più che una provocazione appare proprio come una dichiarazione di intenti. Sì, una dichiarazione di intenti parte da un percorso già intrapreso dall'onorevole Palese insieme anche agli altri deputati e anche delle altre parti politiche. Noi abbiamo intenzione di avviare questo tavolo con l'autorità di governo che è il prefetto e successivamente andare avanti. La mia è una provocazione vera, reale e ritengo anche incisiva. Se entro il 15 novembre noi non avremo risposte dall'ANAS, così come la Regione attraverso l'assessore Capone ieri ci ha detto che non si sono presentati al tavolo convocato da loro in queste ore. Noi porteremo questa provocazione. Non c'è modalità di bloccare quell'arteria fondamentale, importante, che è bloccata ormai da tanti anni se non quella di occuparla noi stessi. Io ho fatto questa provocazione di mettermi lì davanti al Guli con un sacco a pelo e dal 15 novembre, come giorno ultimo, giorno massimo, perché il 15 novembre? Perché attraverso questa tempistica noi riusciremo senz'altro a dare la possibilità ancora al Ministero di muoversi per non perdere il finanziamento che scade il 31 dicembre di questo anno. E quell'opera non si farà mai più, altrimenti noi potremmo dire tutte le chiacchiere del mondo, ma se non facciamo qualcosa di importante, di incisivo e di forte, probabilmente qui non si muoverà niente.